Il piano per Roma ovviamente non poteva escludere la questione dei cortei ma quella è immanente diciamo non aveva bisogno del piano per Roma. La decisione che abbiamo assunto relativamente alla questione dei cortei è il rigoroso rispetto dell'accordo, del protocollo fatto dal prefetto con i partiti e i sindacati. Esiste un accordo che riguarda gli itinerari, vi è stata la possibilità di deroga rispetto a quel protocollo, rispetto a quell'accordo, rispetto a quella intesa con i partiti e i sindacati relativamente agli itinerari. Noi ribadiamo la nostra posizione ferma, manifestare un sacro diritto, la libertà di manifestazione del pensiero è costituzionalmente garantita, è anche un diritto, il diritto dei romani a vivere il loro centro storico, il diritto dei turisti a godersi la città più bella del mondo, il diritto delle nostre forze dell'ordine, dei nostri uomini indivisa alla propria incolumità personale, alla propria incolumità personale, anche quello è un diritto. Dunque noi dobbiamo fare sposare il diritto alla manifestazione del pensiero con i diritti e le libertà degli altri. Nessun corteo violento sarà messo in centro, tutti i cortei pacifici potranno rispettando il protocollo sugli itinerari, l'accordo sugli itinerari che vincola il nostro sistema di sicurezza cittadino, ai partiti e ai sindacati che hanno stipulato quell'accordo potranno realizzarsi ovviamente tutti i cortei pacifici che si vorranno realizzare. Ecco questo è il nostro piano per Roma, siamo convinti che un piano che darà più sicurezza ai cittadini di Roma e che potrà essere, ed è il motivo per cui abbiamo cominciato da Roma, potrà essere un modello sperimentale per le altre zone d'Italia. Roma è la capitale d'Italia con delle esigenze particolarissime e noi abbiamo voluto rafforzare questa specificità.